Si torna a parlare dell'omicidio di Bruna Bovino avvenuto quasi dieci anni fa nel dicembre del 2013. Gli esperti del ROS dei Carabinieri hanno a tal proposito effettuato un sopralluogo in un centro estetico a Mola di Bari. Tra i presenti anche i consulenti di parte di Antonio Colamonico come l'ex generale dei RIS Luciano Garofano. Colamonico è stato già condannato per l'omicidio della 29enne titolare del negozio dove fu assassinata. La Corte d'Assise d'Appello di Bari ha autorizzato l'ulteriore accertamento su richiesta della difesa dello stesso Colamonico al fine di ottenere la revisione del processo. L'uomo dall'inizio del procedimento giudiziario nei suoi confronti ha sempre sostenuto la propria innocenza e continua ad invocarla. Stando a quanto sia preso al centro dell'attenzione ci sarebbe il contenuto di una bottiglia che si trova ancora all'interno del centro estetico contenente il liquido che l'assassino avrebbe utilizzato per favorire la propagazione delle fiamme. Il corpo senza vita della donna fu trovato semicarbonizzato su un lettino. Al vaglio anche altri dettagli.